Cerca il furiere, lo troverai subito dopo il cancello. Mi serve una barella alla fine del ponte. Ehi, devi passare di qui. Dobbiamo accertarci che non ci siano infezioni. Sì, siamo uguali a tutti. Sai? Ho capito che dobbiamo metterci sta roba addosso, ma sinceramente... Vi saluto in questa zona! Credo sia un po' di più, sì. No, non è un po' di più. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Siamo con voi. Grazie a tutti. 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 Ti auguro a tutti. Ti auguro a tutti. Ti auguro il meglio. Ti serve qualcosa di speciale? Il dipartimento medico è allo sbando al momento. Quando avremo la virologa potremo formare uno staff, indagare sulle origini del virus, ottenere altre risorse, per i civili ma anche per noi.